Perdonanza e Giubileo, quale comunicazione? Evento inserito nel cartellone messo in piedi nel monastero di San Basilio durante la settimana della perdonanza dagli amici di San Basilio e della Cordata per l'Africa. Perdonanza e Giubileo Romano sono due eventi che si intrecciano. Celestino è presente anche nel documento di indizione del grande Giubileo. A confrontarsi, moderati da Don Claudio Tracanna, il nostro direttore Carmine Perantuono, il giornalista e scrittore Angelo De Nicola, il caporedattore del Tg3 Rai Abruzzo Paolo Pacitti, il giornalista Goffredo Palmerini, Dario Nanni, presidente della Commissione Giubileo di Roma e Francesca Pompa, presidente di One Group. Il ruolo della comunicazione in tal senso sarà fondamentale. La perdonanza di quest'anno è un vero e proprio ponte verso il grande Giubileo, un percorso che la Chiesa Aquilana ha già iniziato. Siamo già un po' in cammino da due anni, in modo particolare dalla visita pastorale che ha fatto Papa Francesco del 2022 e il fatto che è stato prolungato l'anno di indulgenza fino al 2023 e ancora quest'anno 2024 ci ha stimolati come Chiesa Diocesana a un percorso di preparazione a questo evento così grande di grazia, quello del Giubileo del 2025. E chiaramente, come la stessa Bolla dice, che Papa Francesco sottolinea, queste esperienze di spiritualità popolare, giubilari, che sono state nel tempo, hanno anticipato in qualche modo il Giubileo del 1300. Quindi automaticamente esiste un collegamento intrinseco, direi, del valore, del senso dell'anno giubilare, dove è quel tempo, quello spazio dove si sosta in qualche modo per ritrovare se stessi, per riordinare se stessi sia a livello personale ma anche a livello proprio comunitario. Presenti al dibattito sulla comunicazione, Dario Nanni, che ha rappresentato anche la città di Roma durante la perdonanza. Con l'Aquila già si sta lavorando, vista la grande connessione tra perdonanza e Giubileo, e a breve ci saranno pure atti ufficiali di accordo. Tutte le attività che si stanno facendo all'Aquila e quelle che si faranno a Roma, ovviamente prevederanno una serie di incontri, di attività, di lavori che verranno fatti insieme proprio tra le due città. Su questo stiamo lavorando anche dal punto di vista amministrativo, perché abbiamo fatto un atto in Consiglio Comunale a Roma che è stato votato all'unanimità, e tra un po' andrà in aula una proposta di delibera che prevede proprio un accordo più stringente tra le due città, che poi ovviamente dovrà essere anche discusso e votato nella città dell'Aquila, ma insomma già abbiamo parlato con l'amministrazione. Sono assolutamente d'accordo a stringere un po' i cordoni e a creare quest'asse sempre più stretto tra Roma e l'Aquila.